Ci vediamo in fiera! Sì, ma con tutto sto casino del coronavirus, come facciamo a fare una fiera? Beh, lo scoprirai dopo la sigla! Ciao, quest'anno abbiamo deciso di partecipare alla fiera, ma non all'MCE, perché non rispecchia le nostre caratteristiche di valore e di missione. Noi aiutiamo le famiglie a trasformare la casa in 100% elettrica, sfruttando l'impianto esistente anche magari se ci sono dei radiatori. Mentre la fiera MCE, seppur sia una delle più importanti fiere nel settore termoidraulico, è comunque una fiera di prodotti, è una fiera dei cataloghi. Vai lì con la borsetta, porti a casa un sacco di cataloghi, nulla da togliere con fiere di questo tipo. Infatti anch'io andrò all'MCE per trovare nuove soluzioni tecniche specifiche. Però non è quello che di solito facciamo tutto il giorno. Infatti non basta solo il prodotto, ma servono anche gli strumenti a contorno, quindi le analisi, le pre-analisi, le persone giuste, gli installatori, i partner giusti per realizzare una casa 100% elettrica. Ed è per questo che avevo scelto di partecipare a Fai la cosa giusta di Milano. Una fiera per le persone che vogliono fare la cosa giusta, nella loro vita. Quindi non solo nell'aspetto puramente tecnico di come riscaldare casa, ma anche come mangiare, come vivere una vita più sana. Ma poi con questo coronavirus è successo un gran casino. Sono state sospese tutte le fiere e quindi non è più possibile presentarci con il nostro stempo. Ma allora cosa abbiamo fatto? Con i ragazzi di stile naturale abbiamo fatto un evento a porte chiuse, ma in diretta web. E sabato 7 marzo saremo in diretta con tutti gli specialisti del settore. Infatti ti piacerebbe imparare tutto quello che c'è da sapere su come vivere una vita più sana e trasformare il luogo in cui abiti in un'oasi naturale. Tutto questo sarà possibile in una maratona che durerà diverse ore sabato pomeriggio. Qui sotto nella descrizione del video troverai il link all'evento. Tra i vari partecipanti ci sarà anche Andrea Morello, responsabile nazionale di Sea Shepherd, quel movimento attivo per la salvaguardia degli oceani. Infatti con le loro navi vanno in giro per il mondo a difendere e a proteggere i mari. Poi tra i vari argomenti di questa fiera a porte chiuse ci sarà come vivere in casa senza prodotti chimici, come respirare aria più sana e salubre, come sconfiggere la muffa in casa e come costruire le case in baglia. Tutti argomenti che bene si allineano con la nostra missione di togliere il gas dalle case e vivere in un sistema completamente elettrico senza inquinare. Perciò ti do appuntamento per sabato 7 marzo in diretta nell'oasi di stile naturale. Per maggiori dettagli clicca nel link che trovi in descrizione del video. Ci vediamo presto! Ci vediamo presto! Ci vediamo presto!